E adesso vi mostriamo come gli ingegneri del CER, il canale emiliano-romagnolo che normalmente porta l'acqua per irrigare dal po' le campagne, con un complesso sistema di paratie hanno invertito il flusso, attenuando la pressione sulla zona. A volte nell'emergenza bisogna agire immediatamente, anche tentando l'impossibile. L'Emilia-Romagna è irrogata da questa fitta rete di fiumi, fiumiciattoli e corsi d'acqua e quando molti sono traccimati anche il CER, canale emiliano-romagnolo, stava per subire la stessa sorte. Si tratta della lunga infrastruttura che in condizioni normali pesca dal po' per portare acqua nelle zone interne della regione, irrorando nei campi e rifornendo le industrie. Qui l'intuizione. Attraverso un particolare gioco di paratie gli ingegneri del CER sono riusciti ad invertire il percorso dell'acqua che dalle campagne risale fino al Po e all'Adriatico, alleggerendo la pressione sulla zona. Essendo la prima volta ci ha voluto qualche ora per cominciare ad iniziarla, ma in questo momento sta funzionando, sta funzionando anche bene. Siamo in una fase emergenziale, cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di dare una mano a questo territorio davvero disastrato. Un'operazione complessa, facilitata dal cavo napoleonico, un canale artificiale che collega il Po al fiume Reno, col compito di diminuirne la portata. È in grado di far defluire anche mille metri cubi di acqua al secondo e a origini antiche, nasce addirittura in epoca napoleonica, nel 1807. Sono passati 200 anni e ancora oggi dobbiamo affidarci allo stesso progetto. Il cavo napoleonico che porta acqua dal fiume Reno al fiume Po e viceversa, e il canale emiliano-romagnolo che porta acqua dal fiume Po alle province orientali dell'Emilia-Romagna, rappresentano le ultime grandi opere idrauliche del dopoguerra. Dobbiamo però riconoscere che attualmente è difficile costruirne di simili, in quanto l'opinione pubblica ha un'avversità verso la costruzione delle grandi opere e predirige la costruzione di tante piccole opere, che però dobbiamo riconoscere che spesso non assolvono le stesse funzioni.